Creare un polo culturale che possa unire il teatro lirico, il conservatorio, qual è il progetto, comunque l'idea? L'idea è che noi abbiamo qua due grandi risorse della città e della Sardegna, sono il teatro lirico e il conservatorio. Se riuscissimo a inserire in questa parte di città, in questo tessuto urbano, anche il liceo artistico, l'Accademia di Belle Arti, è un centro di alta formazione che permetta anche di creare delle prospettive occupazionali legate ovviamente alle professioni della musica a 360 gradi, ma legate alle professioni della cultura, del teatro, perché poi ci sono anche tutti i laboratori ovviamente dietro, penso che faremo un grande servizio alla città, all'intera Sardegna, alla città metropolitana e costruiremo un polo unico, una delle piazze più grandi d'Europa fra l'altro, se pensiamo da via Bacaredda fino alla fine di piazza Giovanni e daremo anche una connotazione ben precisa ad un quartiere importante di Cagliari che oltre ad avere il mercato ha anche queste due splendide perle.